Testa di serie numero 5 qui a Torino, gareggia l'elito ATP Finals per il quarto anno consecutivo con 14 titoli ATP Tour, Andrei Ruble! E il tennista più giovane ad essere diventato numero uno al mondo, dalla Spagna, Carlos Alcares! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Giocchi Parli, tutti i ragazzi. Cunicci Parli. Qua l'entra Cunicci. Giocco Rublen. Rublen Pellucci, tra i giocchi adulti. Cunicci Parli. Qua l'entra Cunicci Parli. Qua l'entra Cunicci Parli. Qua l'entra Cunicci Parli. La Cunicci Parli. Qua l'entra Cunicci Parli. Parita Dius Ventaggio Uble Parita Dius 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 Parita Dius